buongiorno a tutti e ben trovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo dell'argomento del momento concorsi 2024 con i fondi del pnr al via le prove orali entro giugno le gradatori di merito saranno già pronte per le immissioni ruolo che saranno effettuate entro in non oltre il 31 agosto 2024 prima domanda della puntata la prova orale del concorso ordinario contempla una domanda disciplinare e una traccia di lezione simulata come si svolgerà questa prova concorsuale quanti punti possono essere assegnati allora le domande disciplinare le tracce relative alla lezione simulata sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo i programmi di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale che si riferisce chiaramente a il concorso del 2024 con i fondi del pnr prima dell'inizio di ciascuna sessione di prove orali nella stessa dunque giornata prima dell'inizio le commissioni determinano i quesiti da porre ai singoli candidati nella misura del triplo dei candidati da esaminare tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione assorte all'inizio della prova invece la traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata di cui all'articolo 7 commi 2 3 del decreto ministeriale è estratta dal candidato 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova per questa prova saranno assegnati al massimo come già per la prova scritta 100 punti nel caso nell'ambito della prova orale ci sono alcune classi di concorso che potranno avere anche la prova pratica per cui 100 punti andranno per la prova pratica e 100 punti massimo per la prova orale la media aritmetica fra le due prove sarà la prova pratica pratica barra orale che poi diciamo convergerà nella gradatoria di merito a comporre con i 100 punti massimo della prova scritta questi 100 punti che scaturiscono nel caso ci sia una prova pratica da prova pratica e prova orale dunque media aritmetica più al massimo altri 50 punti per i titoli seconda domanda come si verrà a conoscenza della data e del luogo in cui si terrà la prova orale del concorso innanzitutto diciamo che alcune classi di concorso sono state accorpate le regioni con una regione capofila una regione diciamo che gestisce e responsabile del concorso per cui ci sono delle candidati per esempio calabresi che dovranno andare a fare la prova orale in abruzzo piuttosto che in sicilia questo diciamo è un dato che è espresso nel bando c'è un allegato apposito nel bando in cui ci sono questi accorpamenti i candidati ammessi alla prova orale riceveranno comunicazione da parte della competente usr l'ufficio scolastico regionale attraverso apposita pubblicazione nel portale unico del reclutamento e a mezzo anche di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso come hanno avuto con lo stesso mezzo il voto della prova scritta e avranno anche dunque la sede oltre che la data e l'ora dello svolgimento della prova orale almeno 15 giorni prima dello svolgimento della medesima vediamo la terza e ultima domanda il titolo di specializzazione del sostegno per la primaria e quello per la secondaria già dichiarati in fase di presentazione la domanda per la partecipazione di concorso sul posto comune dunque sul classe concorso verranno valutati e nel caso affermativo quanti punti verranno assegnati massimo per i titoli dichiarati si per ogni titolo di specializzazione per il sostegno dichiarata all'atto della domanda verranno attribuiti cinque punti per singolo titolo nel caso di due titoli saranno assegnati 10 punti al massimo i punti per i titoli da attribuire sono 50 punti quindi in una gradatoria oltre 100 punti come dicevamo in apertura massimi per la prova scritta 100 punti massimi per la prova pratica barra orale potranno essere attribuiti al massimo 50 punti di titoli dunque il massimo che si può raggiungere e sono 250 punti se si fa diciamo il massimo in tutte le prove e se si sono dichiarati titoli diciamo per 50 punti speriamo che le risposte alle domande che ci avete posto sul concorso 2024 siano utili seguiteci nei nostri canali social facebook youtube per le dirette che andranno proprio sull'argomento e su altri argomenti perché il momento è propizio ricco di novità anche per le gps per il rinnovamento terza fasciata e tanto altro ancora arrivederci e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti